Si chiama Venere, il nuovo singolo di Lorenzo Vizzini. Già in rotazione radiofonica, la canzone scritta dal cantautore ragusano e prodotto insieme a Jacopo Pinna rappresenta il primo tassello di un nuovo lavoro discografico ispirato alla musica e alle colonne sonore degli anni in cui si diffondevano le note di Peppino DiCaprio o Fred Bongusto. Lorenzo Vizzini, di 29 anni, è uno degli attuali migliori autori compositori italiani. Ha firmato brani per Renato Zero, Marco Mengoni, Emma Arisa, Ornella Vanoni, Mr. Rain e molti altri, vincitore del premio sia indetto per premiare gli autori under 30 distinti nel panorama nazionale, segue parallelamente alla carriera di autore, quella di cantautore e anche produttore. Eppure, così suave Venere è una canzone, figlia delle restrizioni che tutti noi stiamo in questo periodo subendo, l'anno scorso, in un periodo di reclusione forzata, mi è venuta voglia di scrivere delle canzoni ispirate a questo periodo storico, che amo particolarmente, rivisitandole a modo mio, racconta Vizzini. A me piacevano un sacco certe canzoni degli anni 60 che, dovendo censurarsi, lasciavano intendere attraverso la musica la sensualità, pur essendo spesso fanciullesche nei testi. Così ho provato a fare mio il concetto, cercando di lasciare spazio alla melodia, scrivendo parole che forse suonano semplici e buffe, viste da fuori ma che sento comuni a qualsiasi erotismo domestico. Nonostante sia un brano ispirato a quegli anni, è stato possibile realizzarlo solo in questa epoca. Abbiamo registrato a distanza con musicisti di diverse parti del mondo, da cui Cipro all'Ucraina, all'Argentina, è stata una specie di viaggio nel tempo e nello spazio. Lorenzo Vizzini è al quarto progetto come cantautore. Nel 2015 è uscito il suo primo disco di inediti, Il Viaggio, prodotto artisticamente da Jacopo Pinna e dallo stesso cantautore ragusano, mentre nel 2018 è stata la volta del secondo disco, L'aria di casa. Il terzo disco di inediti, Sux Mario, è uscito invece nel 26 febbraio del 2021 per l'etichetta Human Records e distribuito da Sony Music.